Inflintigli sui campi di battaglia, non si capirebbero altrimenti nella loro rodice gli scioperi già ricordati del marzo 1943, epicentro la mia città, Sesto San Giovanni, di cui ricorre il settantesimo anniversario che videro battersi i lavoratori delle grandi fabbriche del nord primi in Europa a sollevarsi contro la dittadinanza. Non è dunque casuale che i principi fondamentali della carta costituzionale partano con l'incipi. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Lavoro e futuro sono infatti la coppia spezzata dalla crisi, mentre il secolo alle spalle aveva visto procedere il lavoro come macchina di futuro e di speranza di cittadinanza quotidiana e collettiva. Il lavoro infatti è il grande ordinatore sociale, prima e talvolta perfino più della legge. Lo dicono le nostre emigrazioni interne, la storica emigrazione italiana, l'immigrazione in Italia. Ho marciato verso questa piazza insieme ad Antonio Pizzinato e ricordavamo insieme come andammo ai funerali di Gerry Maslow, ucciso da un gruppo di giovani malordi a Villa Literno nel cuore delle campagne dove si raccoglie l'oro rosso dei pomodori sotto il dominio del caporalato. Nell'appello dei suoi compagni di lavoro, col quale fu indetto il primo sciopero dei lavoratori stranieri in Italia il 20 settembre 1989 possiamo leggere all'indirizzo dei lavoratori italiani non siamo disposti ad essere strumento per fare arretrare i vostri diritti. E se come sta scritto la Costituzione ringiovanisce vivendola anche la lotta di liberazione che la volontà ringiovanisce nelle relazioni dei cittadini che insieme riscoprono le ragioni del proprio stare insieme e del lavorare a un orizzonte di pace e bene con me. E qui l'ultima perla, quel verbo sorprendente, l'Italia ripudia la guerra, un verbo ammirato e invidiatosi dalla cazzo internazionale. Questa è la verità di questo 25 aprile, vivo la resistenza, vivo la Costituzione.